buongiorno buonanotte buonasera a tutti quanti noi siamo zaga nella mentale con la zata maiuscola tutto attaccato io sono sole e fortunatamente non virtualmente a mio fianco c'è violanda in realtà finalmente siamo veramente vicine vedi avete sentito la pezza che mi ha tirato sulla coscia esatto finalmente siamo tornati con con un rival che ci è mancato abbastanza altro non ci ricordiamo niente di questo gioco no assolutamente nulla infatti ricordo solamente che qua tu ti spaventavi con quei cosini e quindi lo facevo io dove tipo aggrappare a me prova aggrapparti tieni come si faceva devi tipo fare questo no vieni qua ok qui come ci sarà grappa ecco mi ricordo ma stare attenta oh mio dio tutto 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 ma ma che brava che so ora lasciati no che porcata ti hai fatto wirdi lasciati ricordi che dovevamo dondolare e poi sopra Però mi sa che io Io sono una schiappa Quindi probabilmente moriremo lì No Madonna, si hanno proprio preso fuoco Eh sì, perché è un tipo di stoffa Eh sì, ma già riniziamo Che tu sei già grappato a me Incredibile Oddio, oddio, oddio Io volevo andare avanti Anche il joystick Sì, tantissimo Io non ce l'ho questa cosa Perché muori tu Eh sì, probabilmente sì Ma se moriamo insieme Se muore uno muore l'altro Oddio, oddio, oddio Ok, lasciami Ah, me ne vado io Ferma, non ti muove da me Aspetta, mi devo ricordare come si fa Sbrigati che questi si muovono No, sei bruciata Ti sei bruciata tu Mi sono bruciata questa Vieni qui Stai andando tu Sicura? Eh, no, niente No Vieni qua Vieni qua Mi devo grappare No Eh, stai andando tu Eh, vabbè, però Vieni qua Non posso Aspetta, devo fare Eh, vabbè, niente Allora, ti Mi posso grappare? Grappate Tu, per favore Se noi ci mettiamo 30 anni Vieni qua, vai E UIIIIII Ok Allora, 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 allora Scendi giù, sali su Va qua Questo no Ok Ok, vado Buttate Come si dice Sbrigati Eh, ma è difficile però Perché Arriva Arrivo, eh, aspetta, mi aggrappo Vai Aspetto così Ok Ah, posso Vieni qua No, dove vai? No, ti sei aggrappata No Ok, dove sei? Ok No Ma è una merda Scusate, ma solo è una merda Ok Non ti stai aggrappando Aggrappati Oh Non ti può zompare addosso Ok Come quando vedi un ragno Sì, esatto Ok, ci siamo, ci siamo Siamo arrivati a una ventola In realtà non abbiamo mai superato questo terzo Sì, infatti Siamo tipo morti 40.000 morti Oddio Vado io Brava Sacrificati tu Devi andare, vedi, lì sotto Ecco, là Ok Io in teoria Allora, no, no, no Devi girare la ventola La prima Perché devi cambiare l'ordine della ventola Io comunque non vedo Guarda, io ti aspetto Vedi la ventola su un altro Prova a vedere un po' se riesci a girarlo Ma no Madonna mia No, non penso che dobbiamo girarla Sai, però se tu ti avvicini un po' più là magari Ma tipo qui? Eh Ok Allora, forse me dovrei No, aspetta Allora, no, risani un attimo Eh, devi aggrapparti tranquillamente Salendo e basta Devi girarlo No, aspetta Perché sono Sono Ma non si scioglie il nodo No, dati Oh Oh Ok Vai all'altro Non andare a questo Vai di là Sì Ok Perfetto Allora, dobbiamo fare il nodo No, forse no Ok, ora No, no Risali Eh no Risali sull'aria Butta di Vai di là Eh no Vedi non me lo fa Non me lo fa perché si aggrappa il nodo Si aggrappa Ah Allora io provo ad andare Io non ho fatto nulla Eh, non mi è scivolato Moriremo qua Comunque bellissime Queste amore Comunque non si muove il mio Ma che problemi ha Ok Ah, devi dobbiamo andare qua Eh, ma questa è dura però Ma se io vado Eh no Non puoi Mi è riuscita solo Eh sì Se volevo però No, allora Aggrappa Ecco Ok Aspetta 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 Ok Prova ora Aggrappati Sì Allora In che senso aggrappa Con questo? Non mi ricordo come si faceva Aspetta Ferma No Vai un po' più là Sì Voglio vedere un attimo una cosa Ok Ok Eh, vedi Devi spingere pure te Sennò non lo fa Aspetta Sì Mamma mia La vedo molto male La vedo Ok Madonna che craniata C'ho dato Ok, ci sei? Ma io Sto cercando di capire Come tirare il filo Forse così Aspetta Come ti tiro il cranio Sto far robin Di filo Ok, forse così Ah ma Questa cosa non la sapevamo No Ma come cacchio abbiamo fatto? Aspetta Allora Posso fare una prova? Vai tu Cosa Ok Ok Aspetta Ho pure dato la possibilità Di andarci tu Capito? Sto facendo le prove Perché non mi ricordo i tasti Aspetta Perché devo capire Come si ritira il filo Cioè Così lo lancio Io non so se si ritira A sto punto Sai Ok 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 Eh Eh no Ma che hai fatto? Te sei buttata Mi hai portato Poi Ok vai Dobbiamo un po' Ricordare un po' Le Insomma I combo Le movimenti Mamma Ma è praniata No Ok Eh ma va fatto così Tu devi arrivare dall'altro lato Eh e come faccio? Non mi andrà che No 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 Non è che faccio tipo così No Scusate Assucidata Neanche Vai dai No vai di là Allora Vai di là E come cacchio ci arrivo di là? Come ho fatto io no? Don don Vai Ok Ok Allora Lo attacco Eh no Prova a fare la stessa cosa che ho fatto io Vai di là Dall'altra parte Secondo me Prima lo devo attaccare Cosa attacca? Ok Un quadrato Eh ma poi Perché non mi salta? Perché non mi salta da qua? Se li avvolge dai Vedi Non salta qua Scemo Ok Ah vedi Si stacca Devi andare a sinistra Vedi che tro Sì ma è troppo lungo il filo Cioè non riesco a farlo Io lo sto Sto cercando di tirarlo in qualche modo Sì ma non capisco Non si può riavvolgere Eh sì Io mi ricordo che si poteva riavvolgere il filo Questo tipo non so No Così lo sto tenendo il filo Così lo lancio Questo non si sa Non si fa nulla Non capisco Sto provando tutte Sì ma non capisco come funziona Capito? Eh vedi che questo lo tira Aspetta un attimo Ottimo Oddio Oh Ok Ok Oddio guarda È frastornato Ma cosa hai fatto? Comunque fai la stessa cosa Ma di dall'altra parte Vai Allora aspetta che lo No Boh Allora mi butto Lo nodo Non ho capito come hai fatto Eh ma ti faccio vedere Vai Vai Allora Faccio prima il nodo Quadrato Sempre Ok poi mi butto qua dentro Vedi Era molto più facile Di quel che sembrava Ok ora puoi buttarti Senza morire Sì Sì Ok vai Arriva arriva Aspetta No è che il nodo fa Mo È il nodo È il nodo Se è più filo Poi Del castro Vabbè Eh lo so ma No no aspetta No hai ragione No togli il filo di là Intanto Eh come se toglie Con il quadrato Con il triangolo Non me lo leva Ok Allora ciao Ah no L'ha levato Ah ok Ok oddio mio Yeee Guarda come faccio le capriole Le capriole Uh Uh Bello questo Mi piace Ma va da solo Guarda Va da solo Non c'è bisogno di fare nulla Ah invece sì Sì Invece sì Uno deve andare dall'altra parte Ah aspetta No Una porcheria così No Ah Aspetta Lo faccio io Vedete Poi craniata La prima di parte destra Al tuo No 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 Vai di là Vai nella leva Prova sopra la leva Ok Aspetta 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 La devi girare prima Dona No Perché Allora praticamente E gnie Allora tu rimani Allora tu sali su Eh allora No sali sopra Sopra di là Ok rimani là Eh No 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 Giralo di qua Giralo di qua Aspetta Ora entra e buttati Ok Adesso Sali là sopra Senza morire Rimani lì ok perfetto mamma mia adesso è morta quello lo devi girare ok perfetto possiamo andare perfetto vai era molto facile questo dai non era così difficile mamma mia che testata vieni qua è andata pure bene allora guarda come cammino i bambini si sono nascosti si che c'erano i zombie sembra molto quel gioco con ellen page Elliot page un gragnocco un gragnocco bayound ti ricordi l'entità malvagia si si come no assomigliavano molto a quello e dici che questi sono i fantasmi che vedeva la bambina la bambina si sarà un altro un altro capitolo grazie a Dio tra l'altro abbiamo notato che l'altra volta avevamo il faro salvatore per favore abbiamo provato con due cuffie ma alla fine non ci siamo riusciti non sentivamo niente nulla mamma mia era incredibile avevamo due controller due cuffie ma non si sentiva niente un trofeo rimane sicuro cosa hai rotto? niente ho sentito un crack no spero solo che non si vedrà il trofeo vabbè ma anche se si vede qual è il problema insomma già lo sanno che noi siamo zaganelle dobbiamo riputarci lì dentro no che è brutto da vedere capito comunque si ragazzi le cose nere che vedrete insomma sperando che non si vedano sperando che non si vedano no infatti sono comunque i trofei lo sapete bene se avete una playstation 4 non come me che avevo una 360 ancora ok questo l'abbiamo fatto si ha detto che dobbiamo salire di sopra infatti adesso e come salire su? dobbiamo salire su uh ma tu ricordi questo coso? allora no com'era? ok ui ok ok bene bene eh perché ha detto che stava qua perfetto dove sta? qui eccolo ah io poi mi ricordo sempre che io sono quello quello rosa quello gay quello gay quello gay bucolico ritrovo Will e Grace no è vero vedi siamo sempre in tema con Will e Grace se no facciamo Will e Barney io faccio Barney no Will e Grace è più bello tu sei morta? ti fu suicidata dentro non voglio venire non voglio venire oh che è tu solo dai viè viè su oh guarda io sono imbronciata siamo tornati colorati eravamo un po' più tristi prima mi sa non lo so ah chissà chissà che cosa oddio i fantasmi ah si vedi eri imbronciato infatti anche nel video ah ma quindi quei due siamo io e te si avevamo detto anche un altro episodio io mi sono scordata io mi sono scordata tutto eh infatti ragazzi è passato parecchio tempo e allora sono sicura che quel coso di fiori andiamo andiamo dai portalo portalo qua spingilo lo spingiamo in due? forse in due no forse dobbiamo solo salire ah ok forse ho capito anche io dobbiamo salire là no ah ok ora l'ho visto eh niente sei andata te arriva ma arriva lì è mica no ma va bene dondola vai sopra ah giusto ok arriva perché ti ammazzi sempre i pezzetti prima no aspetta aspetta vai vai che craniata mi sono andata arrivata no mi hai tirato malamente ma cosa ti ho tirato mi hai tirato ti giuro ferma no no aspetta vai mamma mia eh l'ho detto io è bello lontano vai 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 no è che c'è il tavolo che dalle craniali ok attenta eccomi eccomi oddio ah che carini no 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 io ti odio ecco che cosa fa ah vedi da qua ah si si fu proprio uguale tutte e due la stessa cosa abbiamo fatto no no vai prima tu ferma eh ok lanciati ovvio lancio della fede lancio della fede ma è un vaso ma è un vaso ma aspetta no cosa brava brava ah si ora l'ho visto ui arrivo no no una porcata ecco devi rimanere là devi rimanere no aspetta mamma mia ah 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 e io inizio pure tu vai tu o vai tu eh no vai tu io ti tengo lasciami però ok aspetta vai vai ah 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 aspetta ah oddio un orsacchiotto aspetta che ti spingo eh si si arriva arriva piano non cadere eh mi raccomando ok ferma eh va lo tengo l'ho tenuto eh si però non riesco a salire allora arriva oh oh no non hai questa entità ma no non hai ansia questi pezzi devi fare tutti di sabato ma come mi so dass commencé stava tre attremando il mio aveva paura oh 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 cazzo 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 6 cosa cazzo cazzo cabo aiuto E no, perché ci stavano con me i bastardi? Perché sei il primo, sei? Sei stato il primo Ma mia, là, corri, corri, corri Corri, corri, lascia, lascia, salta, vai via Ce lo fa, il pane Oddio, nata, dove, 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 ciuccio, ciuccio Devo non guardare indietro, non guardare indietro Andiamo se ne, andiamo se ne, che qua ci stanno le cose Comunque noi siamo stupi, le potevamo grapparsi una all'altra E poi scappava, no? Ho bisogno di te qua fuori Non fare domande A posto Dove? 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 Non è quello che è entrato dentro Oh no, dai, ti faccio pat pat Che schifo Qua si fa a fare pat pat? Aspetta, c'era un modo per fare pat pat Eccolo, che schifo No, non l'ho visto, stavo guardando me Che facevo pat pat Un po' di video Ah, queste sono sempre altre entità Entità da Un cosciottino amoroso Non era cosciottino, vero? Vai sopra, è bella, dai Non era cosciottino, vero? Ok, fermo là, fermo La famosa lì? No Secondo me sì Fatti schiacciare No, ok Sono morta? No Eh, non riesco a salire Eh, ma In qualche modo Dobbiamo Eh, aspetta, aspetta No Eh, beh Ma che fase Non lo so Non lo so Dice che Deve dire Dobbiamo andare là Ma perché penso che Andare là, c'è del nero che esce dal muro C'è della muffa sul muro Era trottolino amoroso Non cosciottino amoroso Ah, non lo so Non ti sto nemmeno ascoltando Sì, perché tu stai Sei concentrata Allì Io sto cercando di capire Ah, brava Brava Serena Bella Questa a me è piaciuta Vai, tira, tira Spingi Spingi Aspetta, aspetta Vai Vai Bravissima Eh, non cadere però Vai Ci sono Vai Ora, ora Donagliate Cosciottino amoroso Ce la fai a salire O lo chiamo Eccomi, eccomi No, chiama E le guardi Mamma mia Tipo Goku abbiamo fatto Abbiamo fatto scappare l'entità Ma tra l'altro stiamo andando Di questi personaggi Sì, sì, sì Sì, sì, sì Namo? Ci sei? Namo? No, non ho parole No, dall'altro Il filo! Cioè, siamo andati tutti tranquilli Sì Ma sai, io spastico proprio per camminare Un po' lento, in effetti No, tipo No, tipo Sì? Cosa? Un dente di leone Ma vaffanculo Mi sono visto qualcosa nel gioco No, perché il mio va piano? Il problema è il mio No, il mio ha deciso di andare piano Non so perché Vai, vai Ce la puoi fare? Sì, non li sganci Sì, non li sganci? Mi dici Ho sganciato L'ho sganciato Vieni No Mi basta entrappolata No No Aspetta Ma come si Ah, ok È fatto È fatto Andiamo Mi sono entrappolata Così era Tipo Non so Sto capito Oddio Oddio Ce la con me Ce la con te No Senti, allora Vieni qua Io mi aggrappo Ma io sono qua Tu qua di così Dove sei? Qui Ferma Ok Te sai Grappata No Ok Ok Su Sto Cazzo Ah, ma guarda Rimane lì Bambam 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 Guarda sto stronzo Se se ne va Vai Oddio Non mi toccare Non mi toccare Vai No Ecco Ora te qua Oddio 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 No Serena Così Non è un'ammazzata No Fai nel panico Allora 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 Ce la posso fare Aspetta Provo io Provo io No No Vado io Voglio provarci No Ma se non schiappa Vieni qua Grappati Ah Trottolino Amoroso Guarda che te ce la fai Io ora non ti aspetto Ti manco qua No Aspetta No Lo sapevo dovevi aggrapparti a me Posso farlo io Vai Io ci sono riuscita Adesso tocca a te Ah no Ok No No Adesso Ah ok Ah no Ok Aspetta 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 Ma che fai Io Ma Aspetta Aspetta Eh già Ferma Fermalo Fermalo Eh Non ti aspetto Ah Ah Zitta Adesso di chi ha la colpa Adesso di chi ha la colpa Zitta Ce la fai Ah poi io Eh Dobbiamo andare là Sì sali là Sì hai capito Aspetta Aspetta Strusciata per terra Ah che duro Ti ho ammazzato Oh Arrivo eh Arrivo Struttolino Amoroso Do 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 Da 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 Sale Oddio Oddio No ma che c'era un coso No vabbè Dai Ma questo non l'avevo proprio visto Ok Vedi l'alce là dietro Oddio Oddio è pieno Guarda quanto c'ho paura io Andiamoci Oddio Corri Oddio Mazzata tu ce l'hai fatta Io no Arrivo Aspetta aspetta Vado io Ok aspetta Ok no Mazzata comunque Che ansia Oddio Paura Oddio le rocce Oddio la morte Oddio no i cosi I cosi corri 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 Oddio No 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 Di qua di qua Sali su No 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 sali su Giù perché giù Non ho idea Salta Salta Lo dobbiamo Ok Vai dall'altra parte Corri Ok scherzo Ah l'ho visto il regno Ah l'ho visto il regno stavolta Vai Oddio c'ho paura Aspetta però Aspetta vai Ora dai 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 Arrivo Arrivo Oddio Oddio grande No 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 Perché mi stai così attaccata No 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 È una porcheria Aspetta devo andare di qua No Eh sì Aspetta aspetta Perché per andare lì Devo prima spingere questo Oddio Ah no vedi Devi scendere giù Porca Devi spingerlo tu l'altro Oddio Viori Muoviti Muoviti È qui Oddio Arrivo Arrivo Eccomi Ci sono Sbrigati Sbrigati che sta qua Eh ne hai capito Ce l'ho pure io qua Eh niente No Cazzo Allora Abbiamo capito Insomma un po' Un po' un disastro Un po' problematico Però ce la dovemmo fare Allora Io ti aspetto qua Vai Ok Ok vado in Allora Ok Ok Vai Eccomi No Oddio è qui Aspetta aspetta Cazzo Rola Addio Addio Aiuto Eh ho capito Io ho denseguate Ecco Bene No no Non venire qui Torna via Bravo bravo Questo non si incastra Questo si incastra Oddio no Oddio no Aspetta 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 Oh e vai via Mamma Aspetta Dai vai via Adatto arriva qua E se ferma Ok Allora Lo faccio tornare Ancora un po' più in giù Sì perché tu devi andare là Eh lo so Vai 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 Oddio 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 Eh no vabbè Ma non ci riesce Cioè non sale Facciamo un rovescio Aspetta Scendi tu giù Allora aspetta Madonna che andre Che comincia Aiuto Ah sali Ah Ah Ok Vai Perfetto Oh no Ok No se ne torna indietro Torna indietro No perché No 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 Attenta Attenta No Devi stare tu Tu devi tornare indietro Capito Devi rimanere sopra Devi rimanere Eh lo so ma Devi tornare quando fai Ah ok Il punto è che un po' dopo Dove ritornarci dall'altra parte No e poi ci ritorniamo io O te dai Cioè intanto Intanto già che abbiamo Sblocato questa cosa Capito Ok vai Ok me ne va Dove stai? So qui Vai se ne torna indietro Eh no vedi che non si blocca questo Eh poi ci pensiamo Vai Vai di là però Se no non abbiamo il filo Vai Allora Ah Aiuto Vai Bravissima Sopra Sopra Che schifezza No 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 Salta 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 Ma perché non salta Io questo non ho Aggrappa di là dove c'è il colo Vai là Vai là giù Vai tu Aspetta Ho un'altra idea Devi tipo salire là sopra E andare lì Vai Anche così Perfetto Ok 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 ora io vado di là No Non ti preoccupare Non ti preoccupare Aspetta famo andare tipo Proprio lontano Vai Vai Bellissimo Vai muoviti Vai Aspetta Guarda che figlie di puttana Sì 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 Vai 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 Ma è rimasto a peso Sì È rimasto morto Infatti Ah Veloia Ok ora Qui Pipistrale Mazzai Mazzai Io ce l'ho fatta Meno male Non tornavamo niente No Corri 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 Titi Oh un po' più de luce Già non c'era niente Tentacola Un pino Un bacio Un bacio Un bacio No Un tacchino Ma che Oddio Oddio Questo ci mangia Aiuto Aiuto Questo ci mangia Il tacchino Oddio 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 Che siamo matti Ok Aiuto 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 Il tacchino Incazzato No Violanda No Ti ha ucciso A peccate Ti ha ucciso Che cazzo vuole Moso tacchino Di merda Corri Corri via Corri via Corri via Oddio 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 Guarda che passo Tacchino Di merda Aspetta Rimani qua Lui non si muove Ok Vai salta ecco, meno male arriva, arriva ok, checkpoint ti aiuto eh, lo sapevo c'era il checkpoint c'era, non ti preoccupare no, ma che mezzo aspetta, aspetta, vedi che è qui che ti aspettava ah, vedi mamma mia è molto, buttavo non lo so aspetta aspetta ah, lo devi distrare, forse io lo devo distrare, forse scendi, prova ah, oddio, ora muoio no, no, sta presto a me, dai togli quella lacca aspetta, non lo so dogli alle, non togliamo compi andiamo su da su come ti capi acqua pati 抜ì vai, dai che tanto non ti piglia nulla che è l'acqua bella vai ok ok sembra che io devo fare questa cosa ok ok guarda è guarda 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 io tacchino malepico mamma mia se te magno dici che ce vede ancora c'è poi oddio il tacchino oddio violanda violanda il tattino ci ha tagliato il filo non lo so che dobbiamo fare qualcosa io ci sono riuscita però mamma mia aspetta che ci arrivo troppo peso troppo peso non siamo coordinati aspetta e ora aspetta però ci sto io aspetto oddio di sali 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 non buttarti aspetta non sì sì vai ok si tira sali ti prego d'anno ti lascio la corda non riesco a non dolarmi un po' di corda troppo corda mamma mia oddio allora uno dei due si deve buttare vado io vado io tira 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 bravo me devo buttare di nuovo aspetta soniii no cazzo no 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 corri corri accrappati aiuto e vabbè mamma mia come ha tirato il filo stavolta stancato stacuoso ma che è corri corri oddio guarda oddio che faccio oddio stacchino il stacchino mi lascio ma io non sto facendo nulla allora oddio mondo crdele no no ok 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 mamma mia Ok, ok, allora lì c'è il checkpoint E mo La sfida Non so come si sale Non mi fa Oddio Era l'unico modo che salì Hai capito? Devi dondolarti là Ah, ok No, da qui, che palle Ok, vai Mamma mia, bellissimo Non voglio fare nella vita reale questa cosa Oddio, aiuto, sì, vabbè, è rimasto Incastrato, ma che davvero È rimasto incastrato lì comunque Oddio, oddio, oddio Perché è sempre te Perché è sempre te Allora, uno, due Ok Ok, io sono entrata No, è troppo corto Eh, vabbè, cazzo Senti, fai una cosa Vieni super di me Ok Non ora Non ora Ma non lo so Ma che ne so Si è impallato Come si sale su di te Con triangolo No, non adesso Sennò Non ce la facciamo Ok, fai di angolo No, vai Sali, sali, sali Oh mio Dio Ok Facile, allora Qua tu dongoli e vai di là Ovviamente io sono la preda Vai Oh, una lata Mi ha dato questo tacchino Mi ha dato un po' Bum Sembra su galline in fuga Che è altro Fa il seguito Tacchini in fuga Io dico, ah, no, sali Fa qua La fa il seguito di me No, ci mettiamo 30 anni Vai Io so che abbiamo capito Che tacchino ce l'ha Con te che con me Ah, si, beh Io lo so, è attratto dal verde Il tacchino No, no Eh, poi so Mi davo una mano Mi davo Oh, una volta Sono morta 30.000 Sei Ma già stai sepo di me Sì, no Ha iniziato da solo Così io non ho fatto nulla Maronide Oddio, oddio Ok, ok Allora Sei? No, sono al barro No, perché Ti vedo Sto tacchino Ti ha fatto Cioè, ti ha massacrato Oddio Ok E ora? Vieni Vieni Oddio, vieni 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 Sto tacchino di merda Ti faccio al forno Con le patate Guarda Oh, oh Cazzo No No Agrappati su di me No, forse è meglio che mi agrappo io Perché subito i salti Io sono una schiappa Dove vai? Dove vai, scusami Dai, salta Fai il quadrato Triangolo Oddio 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 ma mia moriva moriva arriva eccolo di normale ma vedi uno deve salire guarda che malefico tu devi far di là salta bello e sopra salire lì su e no perché muovi di che tornati a no che niente è sì devi devi ritornare di sopra si solo la sopra è quello che dici tu mamma mia fai tu guarda come ti do la mano da lontano arrivo arrivo mamma mia quando mori a sto tacchino bello oddio no no fiolanda poteva mangiarti il tacchino malefico potevi essere vista esatto non è brava è toccato e adesso è spuntato il tacchi guarda che malefico guarda se entrava anche lui nel portale guarda che brutto che è sto tacchino comunque era stato veramente cattivo sono stati molto bravi siamo morti tipo quattro anni e infatti io ragazzi direi che insomma dopo questa vincente missione contro il tacchino avventura contro i tacchini i tacchini e le galline in fuga praticamente tacchini in fuga noi diremmo che noi diciamo che ci possiamo anche fermare qua eh sì il capitolo è stato completato e quindi direi di vederci direttamente al prossimo episodio noi ricordiamo sempre che ci sono la nostra pagina instagram e di mettere tanti like sul nostro canale intanto noto che si stava aprendo un'altra porta sotto il tavolo perfetto sì e noi ci vediamo nel prossimo episodio di un rival 2 ciao